Musica Ben trovati al consueto appuntamento con l'informazione di Telebari e Radiobari. Non c'è nessuna emergenza alga tossica. L'ARPA smentisce categoricamente l'allarme diffuso nelle ultime ore su una presenza massiccia di alga rossa sulla spiaggia di Torre Quetta. A confermarlo ai nostri microfoni la dottoressa Anna Maria Pastorelli, biologa ambientale ARPA Puglia. Vediamo. Siamo in emergenza alghe sì o no? Assolutamente no. Al momento non siamo in emergenza alghe anche perché dagli ultimi campionamenti effettuati dall'ARPA Puglia i valori di concentrazione dell'osteopsis ovata sono abbastanza esigui. A parte diciamo Molfette e Biceglie dove c'è in atto una fioritura. Quando l'acqua è calma non ci sono pericoli perché l'osteopsis ovata che è una micro alga è adesa al substrato per cui non dà fastidio, non è pericolosa. Può essere diciamo un pericolo tra virgolette nel caso in cui ci fosse una mareggiata e quindi si creasse un areosol che potrebbe essere inalato e quindi insieme alla micro alga la tossina che produce è avere qualche fastidio ma soltanto in soggetti che sono predisposti diciamo. Tra l'altro diversamente da come si sta vociferando in quest'ora non si tratta di alga rossa? Assolutamente no. L'alga rossa è un'altra micro alga, è un'acciaunoficea, la plantotix rubescens ed è un'alga che vive in acque dolci. L'osteopsis ovata vive soltanto nelle acque di mare, acque marine. Il comune di Bari fa la conta dei tagli governativi. La manovra costerà alle casse comunali circa 30-35 milioni di euro. Per saperne di più ascoltiamo l'intervista all'assessore comunale al bilancio Gianni Giannini realizzata da Mirko Cafaro. Assessore Giannini, la nuova manovra lacrime e sangue firmata dal governo costringe le amministrazioni locali a tirare nuovamente la cinghia. C'è già un'idea di quanto questo graverà sulle casse di Bari? Noi abbiamo già dato 13 milioni e 200 mila euro di tagli apportati dal decreto legge 78 sul bilancio 2010. Dallo stesso decreto legge era previsto un ulteriore taglio di 22 milioni per il bilancio di previsione 2011, ai quali vanno aggiunti gli ulteriori tagli preannunciati dal governo e adottati dal decreto all'esame del Senato, per cui potrebbe essere una cifra intorno ai 30-35 milioni. Quali i settori maggiormente a rischio? Noi, a differenza del governo, non abbiamo adottato la logica dei tagli lineari nel bilancio di previsione 2010. Vedremo quello che riusciremo a fare, ma quello che si può dire tranquillamente è che la conseguenza di aver scaricato su regioni, province e comuni l'onere di risanare il bilancio nazionale comporterà inevitabilmente dei grandi sacrifici e probabilmente l'impossibilità di garantire alcuni servizi. Quali? Lo vedremo. E passiamo alla cronaca. Una donna di 59 anni è rimasta ferita nella tarda serata di ieri in un tentativo di scippo subito al rione Iapigia. È accaduto in via di Bagno, dove secondo la ricostruzione fornita dalla vittima, in due a bordo di una vespa di colore scuro avrebbero tentato di strapparle la borsa, strattonandola sino a farla cadere rovinosamente. Subito soccorsa da personale del 118, ha riportato un trauma cranico, una lussazione alla spalla ed una contusione al ginocchio. La vespa è stata successivamente sequestrata, denunciato per favoreggiamento il proprietario 19enne. Topi d'appartamento in azione a Bari la scorsa notte, due i colpi messi a segno in punti diversi della città. Il primo in via De Rossi nel Murattiano, l'altro in via Matteotti al Madonnella. Analogo il modus operandi, approfittando dell'assenza dei proprietari, i malfattori forzando una finestra, si sarebbero introdotti nelle due abitazioni, dove grazie all'ausilio di una fiamma ossidrica avrebbero portato via le casseforti a muro, contenenti denaro contante e preziosi. Vacanza Terapia è il progetto cofinanziato dal Comune di Bari e dalla ASL per i 58 ragazzi diversamente abili partiti questa mattina verso Vasto Marina. Vediamo. Sono 58 ragazzi con disabilità grave partiti questa mattina da Bari verso il centro climatico riabilitativo di Vasto Marina, luogo dove trascorreranno dieci giorni di vacanza terapia. Un momento di socializzazione e di integrazione, ma anche di terapie sanitarie, in questa iniziativa che ancora una volta, forse l'ultima per via dei tagli ministeriali, figli della crisi finanziaria, l'assessorata al welfare del Comune di Bari e la ASL sono riusciti a cofinanziare, seppur con notevoli sacrifici. Non deludere le aspettative dei ragazzi, il primo pensiero dell'assessore al welfare Ludovico Abbaticchio, questa mattina rappresentato all'ingresso della Fiera del Levante dalla dottoressa Paola Pellecchia. Anche per quest'anno, proprio per sostenere e andare incontro a queste situazioni molto gravi di persone disabili o problematiche delle loro famiglie, è riuscito a garantire qualche giorno di svago anche a questi ragazzi che altrimenti dovrebbero rimanere a casa, perché molti di loro hanno delle condizioni per le quali non potrebbero fare diversamente. C'è l'aria che il futuro prossimo non è molto chiaro. I fondi nazionali per le politiche sociali non autosufficienza, che quindi attengono ai disabili, ai gravi, agli anziani, sono stati decutati dal 70-80%. Sono fondi che vanno alle regioni, che poi le regioni reinvestono alle ASL e ai comunici. Quindi il futuro è abbastanza incerto. Una tabella di marcia carica di iniziative è quella dei 58 ragazzi, come spiega le nostre telecamere Franco Ruggeri, assistente sociale dell'ASL Bari. Loro trascorrono la giornata tra riabilitazione e attività sociali che avvengono tra di loro. hanno anche dei momenti in cui loro si apprestano ad andare presso i luoghi dove possono effettivamente fare attività anche di nuoto, perché la struttura è provvista anche di una piscina, li portano anche al mare, quindi i ragazzi vivono proprio a pieno questa situazione come un momento di gioia e di serenità. E voltiamo pagina e torniamo ad occuparci di moda estiva. Ma questa volta parliamo di novità stagionali, infatti di gusti di gelato. E lo abbiamo chiesto a chi di gelato se ne intende. Vediamo. Nutriente, fresco, cremoso, l'ideale sostituzione di un posto completo, in coppe o coni di ogni misura, nei gusti classici o sempre più ricercati, è il gelato. Il re indiscusso della stagione estiva, ma ormai sdoganato per la sua bontà in tutti i mesi dell'anno. Una delizia del palato da veri intenditori, grandi e piccini, quasi un precetto medico per combattere alle alte temperature. Ma chissà se anche il gelato segue i dettami stagionali della moda, con la creazione di gusti sempre nuovi per soddisfare i palati più esigenti. Noi abbiamo visitato alcune gelaterie del quartiere Poggio Franco e l'abbiamo chiesto a chi di gelato se ne intende. Gusti nuovi, gusti che abbiamo inventato anche quest'anno, che sono crema limone, c'è la pinacolata, c'è il gusto alla menta, abbiamo anche dei gusti nuovi alla frutta, tipo ananas e cocco misto, che va molto bene quest'anno come gusto estivo. E poi ci sono altri gusti nuovi che ogni persona viene, prende. E comunque come il gelato quest'anno sta andando molto forte. Gelato quindi vera passione non solo da mangiare, ma anche da produrre. E' nata la passione per quando uno vuole sentirsi qualcosa di diverso e inventa qualcosa come gelataio, gelatiere, quello che si vuol dire. Che differenza c'è tra i due termini, gelataio e gelatiere? Allora, il gelatiere è chi fa il gelato, il gelataio chi lo vende, chi lo serve. Quali sono i gusti predominanti in estate, quali vendete di più? Beh, io sto vendendo di più moltissimo la Nutella, è un gusto abbastanza conosciuto a questi ragazzi qua. Tutti la chiedono, tutti la cercano. E passiamo allo sport, Bari capitale del calcio d'estate. Dopo la nazionale, il San Nicola si riveste a festa per il trofeo team con Milan, Inter e Juventus. Vediamo il servizio di Mirko Cafaro. Un'estate da febbraio 90 per gli appassionati di calcio baresi. Prima l'emozione azzurra con la nazionale di Prandelli capace di superare i campioni del mondo di Spagna. Quindi l'intermezzo gradevole della Coppa Italia alla scoperta del nuovo Bari di Torrente precipitato in Serie B ma subito in grado di emozionare i propri fedelissimi. E ora il trofeo team con le tre big del calcio italiano, Milan, Inter e Juventus impegnate nelle prove tecniche di Serie A proprio sul terreno di gioco del San Nicola. Una festa doppia per i baresi che oltre a godersi un grande spettacolo potranno riabbracciare vecchi idoli da Antonio Cassano a Bari per la seconda volta in otto giorni, ad Antonio Conte, artefice del ritorno in A bianco-rosso, sino ad Andrea Ranocchia e Leonardo Bonucci, giocatori azzurri lanciati dal Bari sui grandi palcoscenici nazionali. E alle ragioni del cuore si aggiungono anche le passioni sportive. Non è un mistero, infatti, che in città ci sia una folta colonia di tifosi delle tre big con una marcata prevalenza di sostenitori juventini e come potete vedere dalle nostre immagini di oggi anche da una folta rappresentanza milanista alla quale si è aggiunta quella dei tifosi personali di Antonio Cassano accolto come un re. Vediamo uno sguardo alle previsioni del tempo. Cielo sereno, i venti saranno prevalentemente moderati e soffieranno da nord-nord-ovest con intensità di 13 km orari, e temperature compresse tra i 21 e i 32 gradi. In chiusura vi ricordo come di consueto i nostri indirizzi internet telebari.it e radiobari.net. Ed è tutto per questa edizione del nostro telegiornale. Io vi ringrazio per averci seguito e vi auguro un buon proseguimento di giornata. Grazie a tutti.